Una donna di Firenze di 74 anni, Anna Del Lungo, è deceduta in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto nella serata di domenica in via Italica al Lido di Camaiore, nei pressi della pizzeria Mystic Pizza. La donna sembrerebbe che stesse attraversando la strada che in quel punto è buia quando è stata investita da un ragazzo di 25 anni residente a Capezzano, originario dei paesi ex-Russia, che era in sella di uno scooter. Nell'impatto con la donna è finito a terra andando a sbattere contro un'auto procurandosi traumi gravi ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Versilia, come la donna, che purtroppo è deceduta successivamente. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e l'automedica. I rilievi sono stati effettuati da una pattuglia della Polizia Municipale di Camaiore, coordinata dal comandante Claudio Barsuglia, per ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente in cui ha perso la vita la turista fiorentina. Buongiorno Buongiorno